Nuovo aggiornamento da Firenze Smart in studio Mauro Ciutini, code a tratti sulla 1, il tratto interessato Calenzano-Bivio 1 variante di Valico a direzione Bologna. Sempre sulla 1 rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino per un veicolo fermo in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce-Sull'Arno e Montopoli-Valdarno, materiali dispersi verso Livorno e tra la Strasigna e Firenze-Scandici il traffico è rallentato verso Firenze. E ricordo che il Giro d'Italia passa dalla Toscana domani e domani l'altro, domani Massa Camaiore e Lucca, giovedì da Viareggio a Rapolano, previste quindi modifiche alla viabilità ordinaria al TPL e al traffico ferroviario. Maggiori dettagli li trovate sui nostri canali social. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Grazie a tutti.